Happy Birthday! No, per dire, è un po' di gelata che ci è fatta così. No, no, no. No? Diventa veleno. Diventa veleno. Guarda Gianni. L'avevo lavato. Era un buon tempo. In quel tempo l'avevi messo. L'ho preso. E dopo... C'è un po' più da tappanamento. Però ti devo fare nella posta. No, no. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda. Guarda. Onorevole per arrabile. Io ti ho già visto mamma di neanche. Ho visto mamma di neanche. Devo essere un buono nella situazione. Guarda, guarda, guarda che la... Vieni. Vieni, una macchina. Vieni, una macchina. Guarda come si sente. Guarda il buon tempo. Buon compleanno! ma ancora congelatino sotto il biscottino ok grazie rialza il piettino dopo beviamo un amarrino si, se anche l'amara lo puoi prendere si, un goccino un goccino è un mo' congelato è un mo' congelato bisogna, questo è l'acqua e l'acqua anche se l'amara lo puoi prendere no, lo puoi prendere lo puoi prendere mica vergogna io l'ho ancora guarda che avevo messo tutti è necessario bere avevo messo un bicchiere alto si, si e l'ho messo non metti tanti bicchiere si sporcano l'ornello ne mette tre ma si ma vi buono anzi uno per tutti è buono è buono Lari ancora congelatino è gelato è ancora gelato sempre no più fredda è meglio è più buono bisogna aspettare metto un po' le microonde no, le microonde prende da lì dentro si fa così studi un secondo questo lo rialza da un po' si, si, si faccio così poco, poco metti un secondo si, niente va il cazzo il bottone in alto non lo so fai lo te perchè io non lascio andare a il cazzo o tira quello il canabussone o tira quello la cosa basta, dai vedi 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 che ruolo non lo so no scacciate senti non più due minuti vedi 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 Grazie a tutti.